Salve amici del Centro Meteo Italiano. Tempo instabile ma con clima piuttosto mite nei prossimi giorni, possibile svolta fredda a partire dal weekend. Prossimi giorni che vedranno ancora una depressione attiva sul Mediterraneo occidentale, con un minimo al suolo sulla Sardegna. Di oggi acquazioni sparsi sull'Italia ed in particolare al centro-sud, ma saranno probabilmente le isole maggiori a vedere i fenomeni più intensi. Seconda parte della settimana, con vortici in allontanamento verso il Nord Africa e promontorio di alta pressione in risalita tra Mediterraneo orientale e Balcani. Clima piuttosto mite con temperature sopra media da nord a sud. Per il secondo weekend di novembre principali modelli che mostrano invece un possibile intenso scambio meridiano. Anticiclone in risalita verso nord e aria fredda in discesa dalla Scandinavia verso il Mediterraneo, dove potrebbe anche approfondire un minimo al suolo con annessa fase di maltempo. Presto ovviamente per scendere in dettagli, ma non si esclude in tal caso anche la prima neve a bassa quota. Trattandosi di tendenze, seguite come sempre tutti i prossimi aggiornamenti, sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.